Tutti o quasi a scuola. Da lunedì complice il ritorno della Lombardia in zona gialla inizieranno le lezioni in presenza per un massimo del 75% degli studenti iscritti alle superiori. Già si fanno sentire le preoccupazioni con più di 40 classi in provincia di Lecco attualmente in quarantena. C'è chi teme un nuovo picco di contagi. I problemi poi si concentrano più che in classe negli spostamenti. Per questo motivo la prefettura ha varato un nuovo protocollo per limitare assembramenti e scaglionare gli ingressi. Su 100 studenti iscritti alle superiori ogni giorno 25 faranno lezioni da casa. Gli altri si recheranno in classe con ingressi divisi in percentuali variabili dalle 8 alle 9.40 in tutti i pressi tranne che a Colico dove per ragioni logistiche tutti invece inizieranno insieme alle 8. Il prefetto Castrese di Rosa ha sensibilizzato le forze dell'ordine a concorrere nei servizi di vigilanza e controllo con le polizie locali e i volontari di protezione civile per evitare assembramenti nei punti critici. Per venire inoltre incontro le problematiche degli studenti che dal lago devono raggiungere il capoluogo amplificate dal cantiere in corso lo svincolo di Abbadia sono state aggiunte tre nuove fermate di treni a Mandello una alle 8.48 verso Lecco e due rispettivamente alle 13.12 e alle 14.12 verso Sondrio. Resta però alto il timore per la diffusione di contagi. Gli autobus devono circolare con una capienza al 50 per cento spiega Andrea Frangiamore segretario generale dei trasporti della CGL Lecco. Anche se gli ingressi di studentesse e studenti saranno scaglionati durante la giornata è molto probabile che sarà superata la capienza dei mezzi con alto rischio di contagio fra gli utenti ma anche con lavoratori e lavoratrici considerato che autisti e controllori non sono ancora stati vaccinati. Grazie. Grazie.